E caos rifiuti sul territorio occidentano a far sentire la propria voce sono ancora una volta i lavoratori del Corisa 4, da mesi in mobilità e senza stipendio. Quattro operai, Dante De Luca, Marcello De Vita, Salvatore Rocco e Vincenzo Ruggero, hanno pignorato le quote della ILSPA ed ora chiedono lo scioglimento della società partecipata. Nella richiesta di convocazione di assemblea inviata al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Gaetano De Luca, e al Presidente della provincia, Giuseppe Canfora, denunciano l'utilizzo durante l'emergenza estiva di nuovo personale da parte della ILE, assunto tramite cooperative, anziché reimpiegare il personale già licenziato. Gli operai puntano il dito anche contro la provincia di Salerno, intervenuta nei mesi scorsi per garantire la proroga della ILE e salvare la poltrona di chi presiede la società. Situazione che ha determinato la fuoriuscita di 6-7 comuni dalla ILE e il licenziamento di altri operai, a far discutere anche l'approvazione del bilancio della ILE con il voto di soggetti privati pignoranti di altre quote e di alcuni comuni, con l'esclusione invece della parte pubblica rappresentata dal Corisa 4. A questo punto la gestione dei rifiuti sul territorio occidentano sembra essere stata completamente rivoluzionata rispetto al passato e pone seri dubbi. Come saranno tutelati i 240 lavoratori della ILE e quindi garantiti i servizi sul territorio? Con la nuova società venutasi a creare la ILE può tenere in auso i contratti dei comuni. Intanto gli operai del consorzio, circa 40, venerdì saranno ricevuti dal delegato all'ambiente della provincia di Salerno, Domenico Volpe. Chiederanno la riapertura dell'impianto di selezione di Casalvelino, l'unica possibilità che hanno per tornare a lavorare. Ci auguriamo, ribadiscono i lavoratori, che questa volta il presidente di Ecoambiente Salerno, Mario Capo, sia presente, avendo oramai sviscerato nei precedenti incontri ogni aspetto procedurale e tecnico, dovendo soltanto procedere alla firma del protocollo d'intesa e della convenzione per la gestione dell'impianto.